Allora questo gioco me l'ha consigliato Pete e io ho già fatto un pezzo di tutorial ma in realtà non l'ho finito tutto in pratica sono un assistente becchino cioè questo è il becchino che mi continua a seguire con la testa come vedete tranquillo lavoro, è il mio primo giorno di lavoro questo è il cadavere e fin qua si chiama Dorothy qualcosa è morta da 87 anni in pratica tu schiacci lo spazio e qua ti dice cosa devi fare nel cadavere perché tu in teoria lo devi preparare tipo per essere messo credo nella bara o per fare i funerali che cazzo ne so che roba è lì la manipola ok ah cos'è proprio così e poi clicchi esatto ok che schifezza cazzo ma perché fanno sta roba è per evitare che il morto parli e adesso ti ricordi durante i piatti di carabidi che dicevano i morti non parlano è per questo motivo qua ah perché gli cuciono la bocca sostanzialmente il lavoro della mia vita che bello ma come parla che cazzo se i morti parlano vediamo adesso come dice mix and blankly fluid pump metanolo oddio non so cosa vuol dire sta roba eh ci sono le boccette devi prendere le boccette praticamente tutte e buttarle dentro come faccio a mettere giù la roba che cazzo è successo no 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 non è che no keep doing your thing qua scoppiano cose perdonami eh cioè la sicurezza sul lavoro regge 626 699 come cazzo si chiama grutta ridolo poi mettiamo anche questo perché non l'ha preso e mettiamolo qua un meccantante andiamo a fare un'incisione sulla carotide quindi qua oddio che scherzo è forse stato un po' brusco come cazzo faccio a capire eh si chiamano così eh scusami eh perfetto un bisturi un coltello no è un bisturi si chiama in maniera diversa oddio che schifo madonna ma ti fanno stare qua quando sei morto in america tranquillo che non senti niente io voglio essere bruciato che bordello che schifo che schifo aiuto fa schifo sta roba lui guarda ok ha finito bordello fa quando finisce il sangue perfetto quindi adesso devo tocca tocca sta succhiando no 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 sta facendo niente sta succhiando eh devi muoverlo dopo un po' ok adesso lo sto prendendo di nuovo applica moisturizer to fascial fetus questo andiamo su la faccia ok c'è sto schifo cosa è successo cosa cosa no devi portare via il morto no devo andare via mi hai detto ah ok mi hai detto guarda vaffanculo finisco io qua ti chiamo quando hai il tuo primo turno di lavoro bene ragazzi cominciamo il nostro primo turno hai la voce strana hai la voce strana allora cominciamo il nostro primo turno di lavoro spaccando un vaso no non va non penso che ci sia che casino si sente qua la pioggia ha fatto bene il rumore che passi lì sente la pioggia molto più forte ah prendiamo intanto un cadavere per prendere un cadavere si fa così guardate si prende il carrello il cadavere sono già di ho visto ho visto di peggio che è un po' di luci che sfarfallano prendiamo ad esempio questo coordinate vedi che vabbè tu ne fai così metti il carrello sotto semplice questo lavoro metti il carrello sotto butti dentro questo in modo che non si chiuda poi lo porti giù aspetta un attimo che lo sposto e chiudi la porta poi riprendi il carrello guarda come si muovono i piedi guarda figon è fatto bene perfetto ecco adesso devo cominciare a fare il mio lavoro approfittane nooo non si fanno queste cose ah si devo vedere se ha segni se ha segni strani sulla faccia sul corpo qua non vedo niente faccio ruttate eccolo qua qua ruttate vedi che ha segni strani andiamo avanti cerchiamo se prende fuoco qualcosa altro non puoi fare un'autopsia come si deve aprire questo cadavere fagli un pezzo di fegato fagli una gettossicologica adesso voglio ma non so se è la cosa giusta da fare capito? nel computer comunque trovi tutte le istruzioni perché nel computer hai due icone una ti da nella roba del del becchino classico e l'altro invece per accedere nella parte quella dei demoni di tutta la ricerca dei demoni e robe del genere adesso faccio il light caps semplice sento l'umore strano proprio non è la carta non viene la carta la voce mi ha detto the door is open ma la porta non è è aperta? beh torniamo dentro mix and blurb in fluid pump ah si giusto vero allora guarda cosa devo fare adesso ecco adesso tu devi aggiungere un altro fluido però oltre a quei quattro di prima perché devi praticamente se gli aggiungi quel fluido lì se c'è dentro il demone il corpo comincerà a fare cose strane forma il deide forma il dio gruttolido mettiamo il gruttolido stai zitto tutta il deide tipo jubangi adesso guarda cosa devo fare è una roba assurda devo praticamente fargli un'incisione nella carotide guarda che roba ce li ho già perfetto guarda faccio così gli apro la carotide guarda che roba sai come facevano col maiale gli aprono il collo e lo mettono in giù engage pump and let the body drain perché non non so se stanno togliere la pleura perché non basta ma che cazzo porco dio è diventato un uomo è diventato un uomo è diventato un uomo signori aspetta aspetta Q buttagli il fluido magico buttagli il fluido magico ha fatto rumore e si è trasformata chiudi sta roba ma è diventato un uomo ma è diventato un uomo porco zio che paura ma fa un culo Time is running out Rebecca ha detto Ah e poi per dire la canzone My time is running out Andiamo a vedere se Se si accende qualcosa qua intanto C'è un simbolo qua Eccolo qua è qua guardalo è qui E' qui è un Il blocco è in alto e in alto a sinistra E' un 3 Apri il menu Tigi scusa Clicca Non quello sinistra Ah questo è Ma come sarebbe un dei cosi se l'hai scarabocchiato a caso Non lo so non ho capito Praticamente più tu Cioè più impazzisci Più il demone si fa presente Più il suo simbolo Diventa Diventa chiaro Oddio ma l'hanno copiato da Madison sta cosa Il bloc notice ti aiuta a capire quanto stai impazzendo tu Più stai impazzendo peggio saranno le visioni E potrebbero attaccarti in certo punto Stai capendo visto che non c'ho contato Più stai impazzendo il bloc notice ti aiuta Quando sarà chiaro il simbolo Sarà quasi finita Stai messo male Tigi diverti la mossa Perché stai messo male Perché il tempo sta passando Piccolo Ad un certo punto impazzisco troppo e muoio E adesso cosa fai di questo corpo Tigi Era questa qua era Porca troia Vedo li butto dentro il corpo Chiudo la porta Ma forse si avevamo cambiato assieme Cri quale prendo Prendo Isaac Isaac O Paris Callan Paris Prendiamo questo a Parigi Ne hai già finito uno Si Bravo Morirai a breve Ogni secondo Ogni secondo è importante